www.feyyaz.tv In una fredda mattina di novembre, un gruppo di ragazzi raggiunge alla spicciolata il punto di raccolta. A breve si trasformeranno in reclute. Ma ancora non sanno tutto quello che li aspetta. L'avventura sta per cominciare. «I walk all over you» «I walk all over you» Buongiorno. Qua c'è una chiesa. Giorgio. 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 «I walk all over you» «I walk all over you» «Ci fai qua?» «I walk all over you» «mi chiedo la stessa cosa» «Ciao» «Vovo facciamo i chierchetti ma non…» «Sicuramente, stai arrivando il tuo ragazzo là» «Sicuramente, stai arrivando il tuo ragazzo là» «Bello!» «Ciao, buongiorno» «Piacere» «Piacere» «Giorgio» «Mi guarda già male raga» «Ciao Luca, piacere» Poi, attenzione. Aessandro. Aessandro. Nicolás. Stiamo aspettando che arrivi qualcuno perché è qua, mezza luna. Siamo ancora in tempo per scappare. Grazie a tutti.